Si è della terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci sui. Mi trovo davanti alla tomba di Dante, dove sono? A Ravenna, un posto bellissimo dell'Italia, che vale la pena visitare almeno una volta nella vita, ma poi ci si innamora e ci si ritorna di nuovo, garantito. Ma oggi sono qui per visitare una realtà di Ravenna, sto parlando del berlificio bizantina, quale nome per Ravenna, e soprattutto della ristorazione ad essa collegata, connessa e integrata, il Darsenale. Ce ne parla Mirko, uno dei soci. Ciao, benvenuti, siamo a Ravenna, questa è la Darsena della città di Ravenna e siamo al Darsenale. Questo è un locale che è nato dall'idea comune di alcuni amici, soprattutto con la passione della birra e soprattutto con la volontà di recuperare un vecchio magazzino portuale, originario del 1920, che è stato recuperato per contenere la produzione della birra, ma soprattutto anche un luogo dove poter ospitare persone che possono consumare la birra e mangiare qualcosa di adeguato e che si possa abbinare a questo prodotto, non tipicamente nelle nostre zone, ma abbiamo voluto creare un ambiente un po' del nord Europa, anche in Romagna. Per l'arredo ci siamo divertiti soprattutto a cercare materiali non nuovi, ma utilizzare materiali di riuso, acquistati un po' in tutta Europa, con la volontà proprio di creare un calore, un sapore che non fosse troppo scontato, anzi che avesse proprio un'unicità come il luogo in cui siamo. Nel locale abbiamo sempre pensato che, visto gli spazi, l'unione della musica e fare musica dal vivo fosse per noi una cosa gradita, infatti abbiamo realizzato un palco dove ospitiamo settimanalmente eventi musicali di jazz, blues, comunque per creare un'atmosfera che è comunque accogliente e piacevole come vogliamo che sia il nostro locale. Quindi vi aspettiamo al più presto all'Arsenale, a Ravenna, ci potete seguire sui social Facebook e Instagram per tutte le novità musicali e non solo. A presto!